E questi mi guidano, queste lucciole, una tomba per le lucciole. Ma dai, è troppo bello l'ambiente di questo gioco, l'ambientazione, che figata. C'era un'impronta lì sulla terra. Baccaspillo mi sembra che c'era anche su quell'altro Monster Hunter, quello della Wii U, che è una figata quel gioco. Buongiorno. 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 laggiù c'è il mare che figata sembra bellissimo però adesso vado prima a uccidere questo mostro poi magari ci passo lì e non posso passarci perchè finisce la missione appena lo uccido ma magari lui stesso andrà lì dopo cercando di scappare da me sembra se non è fortissimo e mi fa il culo magari non scappa per niente sono io che devo scappare qua ci sono i cristalli ma adesso non li prendo sono più concentrato sul boss adesso voglio vedere che aspetto ha e quando è forte e quando è forte Momento Metal Gear Momento Metal Gear Momento Metal Gear Momento Metal Gear Che figata Anjanata, come la cosa si chiama? Hai scoperto un mostro Letami Ok, cominciamo Questo dinosauro, il T-rex sembra Madonna Che bel sorriso che hai Oh 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Incazzato nero Cacchio Pure le ali Sì ma non schiva Grazie a tutti Grazie a tutti Cavolo Questi combattono tra di loro Sì mi ricordo Che figata E io posso approfittarne per farli Per farmi i cazzi miei E vedere che succede E poi colpirli Alla sprovvista Sì però è troppo forte questo per lui Lo uccide facile E cavolo C'ho la fa Oh basta Un attimo Aspetta E' un'improvviso E' un'improvviso E' un'improvviso Ma questo perché non mi aiutò? Uccidilo Madonna pure il fuoco Ma si Il fuoco Il fuoco Il fuoco cavolo e dai su se esaurisci la salute perderai i sensi e tornerai all'accampamento se perdi i sensi più volte la missione fallirà devo ritrovarlo insomma eccolo lì è lui no credo sia lui quasi che mi ha colpito per poco cavolo sei diventato amico di un nuovo cacciapiede cacciapiede io sono un lupo solitario no no amici dai su e ora che cadi giù per terra questi mostri mi stanno aiutando ah ne sta cavalcando uno il mio gatto personale il mio aiutante e ora basta corrergli dietro e farlo fuori ormai si è fatto male stango non posso lasciare che recuperi la vita per il resto basta farlo fuori ci sono le impronte qui ecco è arrivato anche quest'altro mio amico che mi aiuterà a sistemarlo cavolo io salgo tu scendi la camera a volte un po' si confonde qui poi ci rimetto io qui che muoio eh no non volevo colpire a te scusa questa è una cosa che mi aiuta ci rimetto wow che salto che ha fatto il fuoco no vieni vieni 5 minuti madonna che sberla che io avevo in faccia adesso ti ho staccato pure la coda credo ci siamo ci siamo sta per cedere manca poco che figata con questi mostri sono diversi da quelli dal monster hunter di wii uo bello bello è parecchio diverso credo che siano diversi da tutti i monster hunter veramente che più o meno sugli altri si somigliavano i mostri da quello che ho capito cavolo questo non è il momento per crepare bel salto si pena che non mi ha colpito e vabbè ho si è arrabbiato ci devo rimettere io scusa ecco non ho più nemmeno le pozioni è finita ho preso il materiale qui dalla coda bellissimo però questo scappa ho poco tempo io devo finalizzare la missione per oggi la missione per oggi bello bello dove è andato devo stare attento se no questo riprende le forze mi ha fatto a passare qui è troppo stretto dov'è oh roger bello 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 Cadi Oh cavolo Adesso Va bene Ma che palle ho Sto cadendo sempre Vieni giù E cavolo succede Tempo scaduto Dovrei potenziare le armi Qualcosa per riuscire Ad ucciderlo più facilmente Ok Grazie a tutti. Grazie a tutti.